amici dell'aba studenti non studianti sur sum corda siamo di nuovo alle prese ma è l'ultimo video col protestantesimo ne abbiamo visto uno con martin lutero uno cosa succede in inghilterra con enrico ottavo e il terzo vediamo un altro grande riformatore europeo giovanni calvino john coven perché in realtà è francese il signor calvino che non ci aveva niente da fare tutto il giorno evidentemente aderì alla riforma protestante di martin lutero si trasferì poi in svizzera dove le posizioni religiose erano molto più aperte scusate vi faccio vedere la mia bellissima sciarpa contro il freddo in primo luogo a basilea e poi nella città di ginevra di cui diventerà capo indiscusso capo religioso indiscusso calvino condivideva sostanzialmente tutte le idee di lutero ci si salva solo per fede e si deve adoperare solo la scrittura come si diceva in latino ci si salva sola scrittura et sola fides ma la sua concezione di dio è ancora più severa siamo all'estremismo rispetto a quella di lutero dio è inaccessibile giudice severissimo e ha già predestinato attenzione a questa parola predestinazione sin dall'inizio dei tempi ogni uomo alla salvezza o alla danazione praticamente secondo calvino teggi ideona comincia il campionato e io so già chi va in champions chi va in europa league chi è retrocesso maschisa e prima bisogna giocare vabbè secondo lui la dottrina della predestinazione non elimina però la piena responsabilità di luogo dell'uomo l'uomo inciampa per volontà di dio ma l'inciampo è causato dal suo vizio ma pensa te e allora come funziona con questa roba qui come si fa a capire se uno è predestinato alla salvezza allora e lui si capisce guardando in una persona tre cose prima di tutto la sua fede in dio fondamentale secondo la rettitudine di vita non va al bar a giocare a carte non picchia al suo compagno di banco non fuma di nascosto dei genitori sto scherzando naturalmente il terzo il desiderio di partecipare a quella che lui chiama la santa cena è una specie di comunione protestante il cristiano diventa santo secondo lui anche nell'ambito della vita politica anche il lavoro è una vocazione religiosa attraverso cui il fedele realizza il progetto di dio nel mondo i cristiani debbono partecipare alla vita pubblica e obbedire alle autorità civili legittime i governanti a meno che esse non siano avverse alla volontà di dio in questo caso possono addirittura opporre una resistenza violenta ma la cosa grossa di calvino è che lui si trasferisce a ginevra nel 1536 ricordatevi bene l'età di ginevra perché per il calvinismo per i protestanti calvinisti che poi avranno diversi nomi e attenzione bene a questi nomi li chiameremo trovati puritani in inghilterra presbiterani in scozia attenzione perché sono l'ala sinistra sono quelli più estremi del del protestantesimo quindi rimane a ginevra e lì organizza una comunità ispirata alle sue idee con una struttura gerarchica al primo posto i dottori responsabili dell'insegnamento ricordatevi non ci sono i sacerdoti poi i diaconi che si devono occupare dei poveri dei malati e infine gli anziani che hanno il compito di sorvegliare la vita morale e religiosa dei fedeli ti ho visto è quello che hai fatto è non lo so sei andato a ballare invece che se venire all'assemblea non va bene non va bene non va bene il governo di ginevra è raffidato infatti a 12 anziani coadiuvati dai pastori e insieme formavano il concistoro avevano sostanzialmente preso il potere politico a ginevra istituendo una città chiesa non è che era molto divertente perché la disciplina era severissima non si poteva andare a ballare ma dai ma io ho conosciuto mia moglie in discoteca e forse sarebbe stato meglio se non fossi andato a ballare adesso che ci penso feste spettacoli non si poteva vestire in maniera lussuosa quindi io che c'ho un completo ugo boss che ho comprato 25 anni fa per il mio matrimonio non lo potevo più mettere pensate c'erano uno gli altri li ho comprati all'ovs i dissidenti cioè coloro che vivevano all'interno della comunità ma non si adeguavano alle strette regole di calvino venivano trattati con grande severità il medico spagnolo michele serveto addirittura fu condannato a rogo poi dicono dei cattolici uè ma loro bruciacchiano anche quello è il 1500 puzza di barbecue per tutta l'europa anche durante le loro cerimonie volevano la massima semplicità niente suono dell'organo niente cerimonia fastosa niente paramenti scerotali niente opere pittoriche ma se tu vuoi vedere la chiesa calvinista dici senti allora vado al garage del mio elettrauto che almeno ci sono i calendari l'idea della che la comunità di calvino era la prima tappa per costruire il regno di dio sulla terra era una chiesa estremamente estremamente rigida ma vi voglio sottolineare bene questa cosa l'importanza cioè dove mi trovo mai l'importanza che sembra sempre che guardo nell'altra parte quando guardo nel video l'importanza che ebbe la chiesa calvinista nella formazione di quello che poi saranno gli stati uniti d'america ricordatevi semplicemente questo nome i puritani il calvinista c'è un segno inequivocabile per riconoscere chi è stato predestinato da dio la sua ricchezza personale il suo successo nel mondo degli affari se uno ha successo nel mondo degli affari secondo il calvinista allora è stato predestinato da dio see you later alligator in a while crocodile per fortuna sono finiti tutti i video dedicati ai protestanti sono finiti tutti i video dedicati ai potenti 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 ai potenti